Buonasera a tutti, per chi non mi conosce sono Edoardo, mi presento a fine della presentazione, stasera siamo in diretta su Radio's Music e quindi la serata sarà gestita un attimino in maniera particolare, non come una vera serata da discoteca, perché comunque dobbiamo rispettare gli spazi radiofonici, tanto possiamo iniziare a far partire un po' di musica, giusto perché se no, grazie. Ovviamente ringraziamo il Fabrizio e tutto lo staff delle Palazze e happy birthday Mattia Musella. Beh, cosa dire, grazie a tutti per essere venuti, mi fa piacere aver riunito differenti gruppi e vedere tutti insieme, spero vi siate divertendo, il mangiare fosse buono e che dire, grazie, devo ringraziare Edoardo, Radio's Music, mamma Barbara, c'è anche mia nonna ragazzi, dov'è? La mitica Gloria, grande. Grazie alla Sabi, non mi voglio dimenticare nessuno, ma siete troppi e vabbè. Aspetta, perché siccome stiamo andando in diretto a tutto il mondo, ora lo dici in inglese. L'hai vista bella, l'hai vista. No, non lo dici in inglese. No, 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 no. Un saluto in inglese. Bye bye. Bye bye and see you later. Che ne lo dico io? Iniziamo con un disco, un disco. Dopodiché avremo i cozzoli, il primo DJ, un DJ di Radio's Music, Paul Brown, esclusivamente con i vinili. Intanto questo disco ve lo regalo io. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.